Nuova eruzione vulcanica nella penisola di Reykjanes, in Islanda, dove vivono circa 30.000 persone. L'eruzione è iniziata nel primo pomeriggio di mercoledì 29 maggio, in seguito a una serie di terremoti a nord di Grindavik, a sud della capitale Reykjavik. Le autorità locali hanno riferito che la lava si è alzata per circa 50 metri nel cielo da una fessura lunga circa un chilometro. La cittadina di Grindavik, di 3.800 abitanti, è stata evacuata. Il sistema vulcanico si è risvegliato il 18 dicembre del 2023 dopo quasi 800 anni di quiescenza.